Benvenuti in Energy Way, fa molto piacere di avere tante persone così nel nostro convento e una piccola introduzione nello spiegare il perché di questo manifesto. E qualche mese fa ero a Milano e mentre ero nel tram a un certo punto ho detto, caspita, ma perché succedono queste cose? Allora ho messo in fila alcuni aspetti, perché pochi minuti prima ero stato per lavoro in un ristorante a mangiare, mentre entravo un signore si alza, che non mi ricordava neanche chi fosse, e mi dice, ciao Fabio, mi abbraccia, tutto, e dopo un po' capisco che ero una persona molto importante, di un vertice di una banca molto importante, e dopo un po' che parliamo mi dice, ma cosa può studiare mio figlio? e dico, wow, non lo so, non sono un guru. E questo è un elemento. Poi ho iniziato a pensare ad altri elementi, cioè quando i nostri ragazzi vanno a presentare dei progetti dai clienti, clienti molto importanti, progetti che possono essere anche molto impattanti sul loro business, e vedo dei ragazzi giovanissimi di 28-30 anni che con tanto entusiasmo vanno a presentare i loro progetti e vengono ascoltati da dirigenti d'azienda con grande attenzione. Anche questo è un altro elemento che mi ha stupito, che è inusuale, vedere dei ragazzi da Modena in un convento che ormai arrivano a Milano e presentano davanti a grandi aziende dei loro progetti di matematica. Quindi tanti ingredienti apparentemente anomali. E così, quindi tanti consigli, che a volte ci chiedono anche sul loro business, mi sono iniziato a fare delle domande. Ho detto, ma come mai? Questa forse è davvero la nostra peculiarità che ci viene riconosciuta. Quindi essere una sorta di traduttore di un mondo molto tecnico che oggi sta esplodendo, ha delle persone molto attente, molto curiose, che hanno voglia di rinnovare, e noi abbiamo forse questa funzione di essere dei traduttori. E poi allora quando ho pensato con i ragazzi del team a un manifesto, contemporaneamente mentre riflettevo al manifesto, cioè è iperinflazionato oggi il manifesto. I manifesti li fanno le big tech, che poi dopo li rinnegano il giorno dopo, e le fanno le case di moda francesi, le stanno facendo tutti, veramente come un nuovo tormentone della mission estiva di tante aziende. Però la voglia di andare avanti è nata molto quando Luca è stato ingaggiato per ascoltare la voce del team, quindi per fare un manifesto che non nascesse calato dall'alto o freddo, ma nascesse dal dialogo con tutti i ragazzi del team. man mano che Luca raccoglieva tutte le impressioni dei ragazzi e me le riportava, era molto emozionante, perché usciva uno stesso elemento che tutti un po' riscontravamo, cioè l'empatia. forse allora la differenza che ci può essere in un nostro manifesto rispetto ad altri è l'aspetto dell'empatia. Cioè l'empatia quindi, oltre ad essere un valore quasi etico, ormai da questo punto di vista, è anche un valore legato all'istruzione, alla contaminazione dei saperi. Allora ho visto proprio questa peculiarità e da lì è nata la voglia di continuare sempre di più con Luca e sempre di più l'ascolto di Luca verso tutte le voci del team nel costruire un puzzle di punti di vista. perché in questi anni siamo cresciuti con bravissimi tecnici, bravissimi matematici, ragazzi fantasiosi, musicisti e poi pian piano abbiamo preso una designer, una brava ragazza che fa tutta la comunicazione, Luca che è uno storico delle religioni, quindi apparentemente distonico con l'armonia di nerd e matematici. Però ecco tutti questi ingredienti alla fine uscivano in un racconto più o meno comune e sono stati sintetizzati a un livello molto aulico, anche troppo per me perché non ci arrivo, nel nostro manifesto. Però la bellezza di questo manifesto anche oggi parlando con i ragazzi dai tirocinanti a quelli che sono qui dal primo momento era che ognuno trova una parola che lo descrivesse o che gli appartenesse. E quindi ritorniamo nell'empatia che è un po' quel filo conduttore che secondo me è un po' la nostra peculiarità perché altrimenti non capisco perché vengono a cercarci a Modena certe aziende o perché ci chiedono certi progetti all'estero. e la nostra forza è proprio quella nel raccontarci e raccontare questi domini oggi molto complessi e apparentemente esclusivi perché l'intelligenza artificiale sembra una cosa molto esclusiva, un dominio solo per tecnici o nerd o le big company del tech e quindi sentirci noi come uno degli anni elementi, un microbo che conoscendo quel dominio inizia a raccontarlo con elementi grafici, con elementi discorsivi, con le voci di un team che raccoglie i sentimenti dei nostri clienti e anche della parte educational che abbiamo, abbiamo tantissime attività che facciamo nel mondo educational e quindi ascoltando anche la voce dei ragazzi giovani, abbiamo più uno condensato tutto in questi otto punti che hanno un filo conduttore che è quello un po' della fragilità, della fragilità umana, dell'incompletezza e fragilità umana, della fragilità della matematica perché oggi sembra una scienza perfetta, sembra che ci salvi, ma la stessa matematica appoggia su delle basi come ad esempio il teorema di Goebbels ci dimostra che sono fragili e quindi è una struttura su cui oggi facciamo affidamento che lei stessa ha delle fondamenti molto fragili e c'è anche una fragilità nel vedere un futuro che i filosofi ci raccontano bene, che può essere molto inquietante, molto preoccupante e quindi questo anche aspetto di fragilità che si ritrova in tutte le otto voci, almeno nel mio tipo di lettura, non essendo io un filosofo, non essendo molto acculturato, la mia interpretazione che do a questi otto punti che sono usciti dal nostro team è di tanta fragilità e mi piace vedere questa fragilità come la contrapposizione alla complessità che oggi ci viene mostrata e quindi come la chiave di lettura e di rottura anche di questa complessità e quindi essere un po' noi anche un elemento di rottura di questa complessità con una fragilità mi piace molto, poi adesso non so se mi sto incartando o perdendo ma mi piacerebbe che Luca facesse un excursus più sugli otto punti che lui ha tradotto dalle emozioni raccolte dal team. e quindi Grazie a tutti